Ma se l'Europa è come una bicicletta, se non va avanti, crolla. La verifica delle informazioni è una grande sfida di umiltà con se stessi. Chi è a favore della libertà sarà necessariamente a favore dello sviluppo e viceversa. I social creano realtà identitarie che diversamente avrebbero fatto fatica ad affermarsi. Considerate che nel mondo ci sono oramai più sim attive che esseri umani. C'è un nuovo inizio e quindi è una nuova sfida che si può cogliere perché lo è per lo sviluppo sostenibile. Solo insieme questa sfida può essere almeno affrontata e speriamo. Grazie per la visione!